vengono anche solitamente nel caso di magari un pranzo una cena prima abbinati al menù oppure siccome viene fatto dopo non c'è questo abbinamento allora sì abbiamo diverse soluzioni appunto scherzando dicevo prima ci sono sicuramente soluzioni un po per tutto perché perché addirittura abbiamo siamo riusciti a prevedere un momento di confetto in aperitivo quindi con durante quello che è il buffet salato mettiamola così no quindi c'è un confetto salato abbinato a un vino d'aperitivo un altro momento è durante il pasto quindi ci sono dei confetti che servono a resettare il sapore della pietanza appena mangiata per preparare il palato a quella successiva al termine del pasto possiamo proporre anche un confetto al limoncello che viene servito anche ghiacciato quindi per per quelli che possono essere appunto delle esigenze in base anche al menù in base anche agli accordi con lo chef e quant'altro poi ci sono appunto quelle che quella che è la degustazione finale classica che va al momento della confettata quindi contestualmente al buffet dei dolci che è la degustazione che facciamo con i dieci tipi di confetti e proponiamo sempre in maniera facoltativa a quel punto l'abbinamento con le bevande a quel punto l'abbiamo? a quel punto l'abbiamo? Grazie.